Dalla Mangiatoia alla Croce, l'Umanità di Cristo, questo l'interessante tema al centro dell'incontro di ieri pomeriggio a Modica, a Palazzo Sant'Anna, per iniziativa dell'ente di Geo Convitto. Presente il Rettore del Seminario Vescovile e Delegato dei Beni Culturali della Diocesi di Noto, Don Stefano Modica, che si è soffermato sulle prefigurazioni apocrife e devozionali della passione del divino infante. Paolo Nifosi, storico dell'arte, che ha parlato della rappresentazione di Cristo nella nascita e nella crocifissione. e il Vescovo di Noto, Monsignor Salvatore Rumeo, che si è occupato dello sguardo sull'umanità di Cristo nella spiritualità francescana. Sono straordinariamente felice oggi perché ho la possibilità di vedere il famoso Cristo di Sant'Anna. Come Vescovo pian piano inizio a conoscere il territorio della Diocesi di Noto. Felice perché siamo ormai prossimi all'ottavo centenario del presepe di Greccio, così come prossimi nel 2024 all'ottavo centenario del dono dell'estimate a San Francesco d'Assisi. Siamo proprio all'inizio e alla fine della vita di un uomo, perché noi ci rallegriamo quando viene al mondo un uomo e piangiamo quando va via. E Francesco d'Assisi ha vissuto l'esperienza del suo umanesimo proprio alla luce della vita di Cristo, della sua nascita, del presepe e della sua morte. È bello vedere nelle chiese francescane il segno della nostra salvezza, il Cristo crocifisso, così come vedere l'innocenza di un bambino, il pianto del bambino di Betlemme. È stato un momento per riflettere sul Natale e soprattutto per riflettere sul senso di comunità, che secondo noi è uno dei principi che deve essere portato avanti. In un periodo così triste come quello che viviamo ogni giorno, dove siamo, possiamo dire, travolti da tutte le guerre, il Natale deve essere una nascita, ma la nascita deve partire dal concreto, dalla vita quotidiana, cercando di riflettere sulle relazioni e soprattutto guardando l'altro con uno spirito appunto di umanità, cosa che purtroppo oggigiorno ormai è sfuggito alle nostre vite e soprattutto tra di noi che non ci guardiamo più con appartenenza e quindi con fratellanza, ma soprattutto portiamo avanti spinte prettamente egoistiche. Un momento di riflessione importante in vista del Natale, questo è il convegno di oggi dal titolo Dalla Mangiatoia alla Croce, l'umanità di Cristo. Vengono messi in rilievo due momenti importanti dell'umanità di Cristo, sotto si parlerà di questo, sotto il profilo esegetico, storico, pittorico e spirituale. In vista del Santo Natale, come ufficio dei beni culturali della Diocesi di Noto, insieme al nostro Vescovo abbiamo accolto l'invito che l'ente Liceo Convitto ci ha rivolto per riflettere insieme su due aspetti che fanno parte di un unico grande mistero, il mistero dell'incarnazione che ha un aspetto nella sua nascita nell'incarnazione e il mistero della passione e resurrezione, in questo luogo che ormai da un anno vanta di aver recuperato uno dei crocifissi più belli della scuola di Fra Innocenzo da Petralia. Quindi siamo grati anche a questa associazione culturale per la promozione del bello in una società che sconosce o sta perdendo il senso della bellezza perché crede di trovare nell'estetismo la bellezza. L'arte ci insegna che la bellezza è una conquista, ma soprattutto che la bellezza dell'arte è il frutto di una bellezza interiore. Nessun artista che non sia bello dentro riesce a creare opere belle. E contemplando il crocifisso di Fra Umile, la prima cosa che emerge è la sua grande spiritualità, così come emerge nei crocifissi del suo maestro Fra Umile da Petralia.